Siamo con Harry Esali, giovane nigeriano calciatore che ha in mente un'idea, un'idea di prendere ragazzi dalle strutture per migranti che sono sul territorio e farne una squadra di calcio, giusto? Sì, esatto. Questa è l'idea che ho in mente per creare questo gruppo di ragazzi che proviene nuovamente in Italia, quelli che hanno voglia di restare qua in Italia e fare la loro vita, fa crescere questa Repubblica Italiana. Perché tu hai anche un nome da dare a questa squadra, qual è il nome che vuoi dare? Vorrei darlo a Young Italy. Giovane Italia. Voi siete stranieri, venite tutti dall'Africa, però Giovane Italia perché? Perché vogliamo dimostrare in modo calcistico e anche per dimostrare che abbiamo tutta la voglia e la volontà di restare qua in Italia e creare un'Italia nuova. Fare una nuova Italia iniziando dal calcio e dimostrando che i migranti saranno a tutti gli effetti i nuovi italiani. Sì, esatto. Quindi qualcuno giocherà a pallone, qualcuno verrà a fare il tifo, qualcuno verrà ad aiutare la Young Italy per creare aggregazione attraverso il calcio. Sì, perché ogni struttura, prendiamo due ragazzi in ogni struttura, ogni struttura ci sono almeno dieci o otto persone, però quando abbiamo preso due persone in ogni struttura, così quelli altri che non giocano vengono a stare insieme con noi a fare il tifo per la squadra. Grazie.